Giorgio Rosselli è già nella sua Genova, Cosenza, è ormai lontana, il suo è un esonero amarissimo dopo due anni vissuti ad alto livello, con una retrocessione evitata, un playoff sfiorato ed una Coppa Italia in bacheca. 24 mesi intensi finiti all'indomani del derby contro il Catanzaro, la gara tagliateste per eccellenza in Calabria. Rosselli è solo l'ultima vittima della partita più sentita, prima di lui già altri ci hanno lasciato le penne, era toccato al collega Spader un girone fa dall'altra parte della barricata, in quell'occasione Rosselli era il carnefice, oggi la vittima della straregionale a tinte giallo-rosso-blu. Ironia della sorte, il suo successore verosimilmente arriverà proprio da quei tre colli che contraddistinguono Catanzaro. La lista dei tecnici è lunghissima, in pol però c'è sempre Alessandro Erra, esonerato dall'US ad agosto e legato da un altro anno di contratto, se il Catanzaro lo lascerà partire il nuovo tecnico del Cosenza sarà lui. La concorrenza tuttavia non manca, De Cosentini Doc, Franco e Gianluca Cagliardi, Tommaso Napoli, ma anche Pippo Pancaro. La lista dei papabili è lunga, senza escludere l'eventualità Stefano De Angelis, allenatore in seconda, che gode della fiducia dell'intero spogliatoio, con lui in panchina tra l'altro il Cosenza. Ha sempre vinto un asso nella manica, che l'allenatore romano potrebbe calare al momento opportuno. Alessio Buompasso per la Cineus24.